Ciao belli e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Questo video è incredibile, ci siamo divertiti un sacco Abbiamo provato la modalità no build Abbiamo fatto un sacco di kill E poi vedrete se abbiamo vinto il game Come incontrarsi così da tacco on thailand? C'è capito tutto di come si diceva Merda, se no diventavo nudo Oh, teniamo una casa, ora non ce l'ho più Merda, è brutta questa cosa Senti giù Senti giù Portatelo Che fai? Vedo Ho due Per me, dove sono? Tirato A me, 50, 100 L'ho nell'angolo, l'ho tutto qua Sento Sto fai tanto eh? Eh, ho capito Uno è open Sento Ma non ti posso fare un cazzo, c'è solo una mitraghietta Poi io voglio questo addio Non ti stai Ti diceva Ti nota Ti nota Ti nota No, allora hoci Sì, questi pesci. Noi stanno smicchiando, eh. Sì, sì, sì. A me nel mio box! Basta. Allora il cesto fugia. Ah, lo so, sto dentro io. Hai altri, altri cosi, portateli. No, 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 finito. Ragazzi, dove sta? Hai finito quello? No. Finito tutto. Vieni, vabbè, 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 vabbè. Eh, certo. Ma c'è un altro tempo dietro, eh. Per 9. Braccato. Vai, no, braccato, è stato di scusa. No. Ucciso. E' stato l'altro team, sei sicuro pieno? No, io non c'ho che altro. E' bello è uno build. E' carino. No, anzi. Non c'è poi, insomma. Ah, no, io ero la cassa. Stavo davanti prima, io ero. Sì, ma c'è una piccola qui. Dovevo schimpare. Ah, che ottio, questo muore. Questo muore. Io dove uscierei? Eh, è andato di un di là. Alla vado al cazzo. Vabbè, vabbè, vabbè. Che usciano? Sta arrivando. Vai, tu, no. Mi hanno messo un portatino enorme. Sono una merda, io. Mi trusti? C'hai qualche move? Qualcosa? No. Allora, vieni con me, vieni con me. Aspetta, 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 aspetta. Trustami, trustami, ci stanno le trincee del 1940. Merda. Merda. Guardate, guardate. Merda. No. Vabbè, guardate. Ti parla di storia. Non puoi esagerare, non puoi esagerare. Ti buccerò. A noi. In. Invece no. Perchè, attacco. Attacco. Un. 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 Un colpo. Che forte. Attacco. è troppo davanti caccato 4 4 ma che sai 36 37, 35, 123 bro, bro, bro ahahahah carca dio ahahah uno, due, tre, redshot, quattro redshot se avessi preso una volta sarebbe stato bello che buccia o no? quello, quello! al bot, intanto tre volte al bot l'ho preso il neurotauro vieni andati, vieni andati stai andando ok ma che tu ci spuglio, tu ci spuglio oh c'è un team, sono morto non lo vedo morto un cazzo di colpo fatti, 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 fatti andiamo avanti, ok? vieni, vieni, vieni spiderman, ok? spiderman spiderman arrivo per salvare New York merda andrò dritto, bro non sape qualcosa ciao, guarda fiderman spiderman ci c'è nessuno qua dietro lo vedo facciamo tutto qua dentro mi sto spregando però mi sto spregando ne manca letteralmente uno bravo? buonasera mixato 360 boom no, l'ho mixato grazie 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 grazie